Stefano De Martino Archivia Belene presenta Gilda in famiglia I due hanno trascorso insieme il Capodanno a Santo, Morizio e con loro anche il piccolo Santiago Stefano De Martino ha scelto la montagna per trascorrere gli ultimi giorni del 2017 e accogliere con entusiasmo l'inizio del nuovo anno E ovviamente il ballerino di Amici, ex di Belen Rodriguez, non è partito da solo per la vacanza a Santo, Morizio ma ha portato con sé anche il piccolo Santiago Stefano De Martino e Gilda Ambrosio E non solo, Stefano De Martino è con un gruppo di amici e con lui c'è anche ovviamente la nuova Fianna Gilda Ambrosio E come se non la stessa Santo, Morizio c'è anche Adelaide la sorella di Stefano Presentazioni ufficiali quindi per la nuova Fianna Gilda Ambrosio in casa De Martino Per ora si tratta di una vacanza, che potrebbe fare da volano per la presentazione ufficiali quando il clima di festa sarà finito Il Capodanno di Belen E Belen Rodriguez, senza il piccolo Santiago si diverte a cena con gli amici e con il compagno La showgirl non ha smesso di essere social neppure nei pochi minuti prima della mezzanotte Sulla sua pagina Instagram ha infatti pubblicato due video, che la ritraggono felice e spensierata come non mai Sulla sua pagina Instagram ha infatti pubblicato due video, che la ritraggono felice e spensierata come non mai